Simone Tomassini conferma di non aver nulla a che vedere con la categoria con questo Eurogoal. Gli applausi del Vestrelli sono tutti per il numero 9 Rosso Blu che vola a quota 12 in classifica a marcatori. Il Villabiaggio vuole chiudere la prima frazione sull'1-0 e ci riesce al 42esimo quando Belli avanza palla al piede. Cirillo nel tentativo di chiudere serve involontariamente Tomassini che controlla e spedisce la palla all'incrocio. Eurogoal e Villabiaggio sull'1-0. Grazie per la visione! 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 Grazie per la visione!